Torniamo a parlare della località del concerto. Fugati dice che è dormiente da oltre 20 anni, è costata più di 20 milioni. Secondo lei cosa si dovrebbe fare di questa zona? Beh, si dovrebbe condividere qual è la destinazione di quell'area, in particolare con il Comune di Trento che è depositario dei progetti urbanistici sul proprio territorio. Che cosa ci si dovrebbe fare va condiviso anche con la circoscrizione su cui pende quel territorio. Certamente le opere che vengono fatte adesso non potranno essere imperative e condizionanti il futuro di domani che va deciso insieme. Quindi la consigliera, capogruppo d'Emsa, Rafferra di chiede condivisione e soprattutto sottolinea il fatto che in questo momento la protezione civile dice potrebbe essere concentrata, dovrebbe essere concentrata su altro. Beh, io credo che diciamo mescolare il concerto di Vasco Rossi con il tema della guerra, sapendo benissimo che nessuno poteva pensare che a marzo del 2022 fino a due settimane fa si entrava in guerra, nessuno poteva pensarlo e quindi non è che potevamo dire stai lì firma la protezione civile che arriverà una guerra e non fa nulla. Lo trovo poco serio l'accostamento. Ma andiamo nelle cose reali. Quell'area lì è stata acquistata perché poi i trentini non lo sanno, perché poi i trentini scoprono le cose e stava facendo. Quell'area lì è un'area di 27 ettari, chi ha un po' di mano, chi fa il contadino immobiliare sa cosa sono 27 ettari, tanta roba in termini di metri e tanta roba in termini di soldi e infatti il centrosinistra una ventina di anni fa la pagò 30 milioni, 27 ettari, 30 milioni. Doveva farci tante cose, la cittadella militare, il notte, il parco, lo stadio, doveva farci tante cose. La consigliera Ferrari dice che noi dobbiamo concertare con il comune. Hanno avuto 20 anni di tempo per concertare su quell'area e nel frattempo è nata l'erba alta fino a dove sappiamo. E quindi era uno spreco pubblico quell'area. Avere un'area pubblica dei cittadini trentini di 27 ettari trasformata in un campo. Di questo si trattava fino a un mese fa l'area di San Vincente. Perché i trentini non lo sapevano che era pubblica quell'area lì. Lì sì c'era uno spreco di risorse pubbliche. 30 milioni di 20 anni fa. Pensiamo a cosa possono equivalere alle risorse d'oggi. Cosa erano 30 milioni di 20 anni fa? Messa lì senza un utilizzo. Noi siamo arrivati, abbiamo avuto questa possibilità grazie anche ad un lavoro sotterraneo perché va detto quando tratti con un artista come Vasco Rossi decide lui il percorso della comunicazione e questo in qualche modo ci sta. Abbiamo avuto questa possibilità e noi cosa facciamo? Quest'area qua oggi la sistemiamo? Sì. Spendiamo dei soldi. Dobbiamo spenderli quei soldi lì perché sono 20 anni che è ferma. Altrimenti se la vuoi utilizzare comunque quei soldi lì li devi spendere per qualsiasi cosa che tu farai in futuro. Quell'area lì la devi livellare ed è quello che sta accadendo. La devi dare dei sottoservizi sotterranei ed è quello che sta accadendo. Quindi non sono risorse sprecate oggi per il concerto. Sono risorse che comunque si sarebbero dovute spendere per mettere in regola quell'area. Noi diciamo quell'area lì potrà servire, adesso servirà per il concerto di Vasco Rossi, poi parliamo del tema di Vasco Rossi, ma potrà servire per futuro per fare ancora area da concerti, non sempre i 120.000 che fa Vasco Rossi ma ci sono i concerti di 20.000, 30.000. Fai entrare il Trentino in un percorso, in un circuito dove non c'era mai entrato che è utile anche sotto l'aspetto economico, commerciale e quant'altro. Poi in quell'area lì puoi decidere di fare attrezzature sportive, puoi decidere di fare tempo libero, puoi decidere di fare lo stadio perché di questo si è parlato in passato e se ne parla anche oggi. Poi decideremo cosa farne. Ma oggi abbiamo avuto l'occasione di avere la più grande rock star nazionale e probabilmente che a livello europeo fa quei numeri di pubblico, di portarla in Trentino che oggi è invidiata questa operazione da tante altre regioni perché questo è quella che è la realtà. Farà la prima data del concerto, per chi conosce un po' il tema dei concerti e della musica soprattutto di Vasco Rossi sa che vuol dire che Vasco Rossi starà una settimana, dieci giorni in Trentino, andrà in un hotel, da qualche parte deciderà lui dove e in quell'hotel lì, quella zona lì diventerà interessatissima sotto l'aspetto turistico perché è sempre stato così, andate a chiedere a Rimini quando Vasco Rossi va a Rimini all'hotel cosa succede e il Trentino sarà per una settimana, dieci giorni, su tutte le cronache nazionali per questo concerto che è il primo concerto post Covid, perché di questo si tratta, da dopo il Covid con quei numeri lì. Farà la data zero, chi sa cos'è la data zero sa che vuol dire 15-20 mila persone che guardano il concerto e farà la prima data del tour. Confcommercio ha detto che ci sarà un indotto di 6 milioni e mezzo, di cosa stiamo parlando? La sicurezza la dobbiamo garantire e non c'è dubbio che la garantiamo, ci sta lavorando le più alte strutture dello Stato, questore, commissario del governo e della provincia, io francamente ho trovato surreale le polemiche.